Parleremo del contributo italiano alla creazione della terminologia biologica e alla nomenclatura delle specie viventi. Si tratta in realtà di due argomenti diversi, ma ugualmente importanti e, come vedremo, che si annodano attorno all'opera di un grande studioso che è Carlo Linneo. La terminologia, ovviamente, ha tanti aspetti, che riguarda la struttura degli animali e delle piante, riguarderebbe anche funzioni, eccetera. Mi limiterò ad alcuni esempi che riguardano la morfologia, in particolare le morfologie delle piante. Nomenclatura come nomenclatura delle specie o dei gruppi di specie, quindi la nomenclatura a servizio della classificazione delle piante e degli animali, che segue una sua disciplina oggi codificata in documenti che si chiamano Codice internazionale dell'anomenclatura zoologica e un equivalente codice per le nanomenclature di piante, alghe, funghi, eccetera. Sono quelle discipline che, da un lato, hanno trovato bisogno di una codificazione alla quale hanno contribuito, come vedremo, studiosi italiani, ma che sono applicate nel quotidiano da tutti i ricercatori che si trovano giorno dopo giorno a dare un nuovo nome ad una specie di piante ed animali che ancora non era stata inventariata e che si aggiunge al grande catalogo delle specie. Dicevo che questi due aspetti, nomenclatura e terminologia, si possono ricondurre all'opera di Carlo Linneo. Ovviamente ciò che più sappiamo di lui, l'immagine popolare dell'opera di Linneo, passa attraverso la sua grande opera, Sistema Nature, dove, nell'edizione decima del 1758, e gli comincia ad applicare a tutti i viventi e animali compresi quella nomenclatura binomia che oggi è universalmente adottata. Noi ci chiamiamo Homo sapiens, per esempio, seguendo l'esempio di Linneo, che usa questo binomio, nome generico Homo, epiteto specifico sapiens, per la nostra specie. Linneo aveva cominciato in realtà a applicare questo tipo di nomenclatura alle piante in un'opera precedente, 1753, e la estende anche agli animali del 1858. Linneo però non fu soltanto un classificatore di piante e di animali, ma, tra l'altro, anche un classificatore di studiosi delle piante e degli animali. Per esempio, sempre nel Sistema Nature, troviamo un riferimento a una sorta di bibliografia ragionata, dove parla di chi si è occupato di uccelli, chi si è occupato di vermi, di vini di servito, e in questi elenchi troviamo, i nomi sono evidenziati, anche un po' di autori italiani, Aldrovanni, Massigli, Bonanni, eccetera. Più specificamente, egli si dedica a elencare, a classificare gli studiosi in un'altra operazione che si chiama Filosofia Botanica, che si ristretta al mondo delle piante, ma che esprime un po' tutto il suo metodo, sull'atteggiamento dei confronto dello studio e della natura, e dove troviamo delle rubriche fitte di nomi, come questa, dove sono elencati fra i sistematici alcuni autori italiani. A cominciare, proprio il primo, in ordine cronologico, cesalpino, che ritroveremo fra un attimo, Micheli e altri. Nella stessa opera Filosofia Botanica, in qualche caso, l'inneo indica addirittura la paternità di un nome, come in questo caso, dove, trattando di petalo, attribuisce a Fabio Colonna il fatto di essere stato primus, a usare questo termine, per indicare floris folium, la foglia, cioè quella entità appiattita, che poi in realtà non è una foglia generica, ma è la foglia del fiore, cioè un petalo. Farò una carrellata veloce attraverso cinque aspetti di nomenclatura o terminologia. Una sorta di premessa, molto breve, riguarda quest'opera, o meglio, questo problema. Noi tutti conosciamo la nascita formale, insomma, della genetica che noi attribuiamo alla pubblicazione dell'opera di Mendel, queste esperienze sui libri delle piante, del 1866. I fabborsi piselli, i incroci, gli ibridi, i conteggi dei piselli, dei semi gialli, verdi e compagnia. In quest'opera troviamo l'uso di aggettivi dominante e recessivo che sono attribuiti a caratteri o ciò che determina i caratteri. Non c'è ancora la parla gene, che verrà introdotta soltanto nel 1909 in questa opera del botanico danese Johansen. Ma andando indietro nel tempo, quindi molto prima non solo di Johansen, ma dello stesso Mendel, noi abbiamo un libro italiano, un libriccino, si chiama Teoria della riproduzione vegetale, di Giorgio Gallesio. Giorgio Gallesio era una persona che aveva piantagioni e soprattutto di alberi da frutto e dedica molta attenzione a capire la stabilità o l'instabilità delle caratteristiche del frutto. C'è ovviamente anche un interesse economico in questo, ma gli distingue presto fra quelle che sono variazioni che si manifestano anche in natura a quelli che sono i risultati di una ibridazione, cioè di un esperimento esattamente paragonabile a quelli che 50 anni dopo o 45 anni dopo farà Mendel. Incrocio quindi fra forme che hanno aspetti differenti. Nel contesto della nostra giornata è interessante leggere le prime due righe della prefazione dove dice le idee contenute in questo libretto sono nate italiane. Egli si giustifica in un certo senso con il lettore italiano, dall'avere già pubblicato qualche anno prima in francese buona parte dei risultati di questi studi, ma dice il mio studio è uno studio italiano e l'oggetto, come dice il frammento sotto, è stato di determinare le leggi con le quali la natura procede delle riproduzioni di vegetali. Ovviamente il progetto è lo stesso di Mendel, tutto sommato, non ci sono, non c'è la matematica, non ci sono i conti. Ci sono osservazioni in cui cerca di capire cosa può fare il polline quando finisce su un fiore e determina lo sviluppo di semi in un'altra pianta diversa e si accorge che delle volte le modificazioni, i frutti che compaiono sono costanti, altre volte variabili, ma quel che è bello è quando mettendo fuoco la situazione degli ibridi che di loro natura sono eterogeni, dice che si manifesta nei loro effetti ora l'impronto di un principio, oggi diremmo un gene o di un altro, in proporzione che uno vi è dominante. Cioè la terminologia è esattamente quella che adopererà Mendel e che poi è entrata oggi nell'uso di un altro gestione. Siamo onesti, abbiamo parlato anche stamattina, qualche collega ha detto, beh, anche l'esempio di poco fa di Guido Roghi, Aldrovandi usa geologia nel suo testamento, ovviamente non è da lì che prende origine direttamente il nome della disciplina. Anche qui non credo proprio ci sia alcuna continuità, valore di questo aggettivo dominante e l'uso successivo domenica lì davanti. Tuttavia, questo è un dato di fatto, un documento storico. Chiediamo questa parentesi e diamo in parti un pochino più concrete, più definite. Terminologia. Due esempi dalle parti dell'esempio. Anche qui possiamo ripartire dall'inneo, dalla filosofia botanica, dove troviamo in particolare l'esempio di calice, il calice, l'insieme dei sepoli, queste foglioline verdi sotto ai petali e dice che è stato Malpighi a darne una definizione. Malpighi, sì, che lo conosciamo soprattutto per i suoi studi sullo sviluppo. Lo conosciamo come un biologo animale. Conosciamo De Ovo Incubato, per esempio, sui studi sull'embrione di bullo. Ma questa in realtà è solo un appendice ad un'opera intitolata Anatome Plantarum, in cui egli dà una definizione di calice, la base del fiore e il supporto su cui si attaccano gli altri elementi, le foglioline, diciamo, del fiore. Quindi, indubbiamente, c'è una paternità, i Malpighi, del termine calice petalo. Quindi parliamo di temi estremamente importanti, diffusi nella numeratura botanica e poi in pratica nell'uso comune. L'inneo ci dà ancora un suggerimento. È stato Columna, cioè Fabio Colonna, il primo a dargli il nome di petalo alle foglie del fiore, cioè questi elementi. In realtà l'inneo prendeva ispirazione da un libricino che conosceva bene, che era il metodo, il metodo, il metodo planetarum nova di John Ray. Ray era stato, diciamo, mezzo secolo, poco più prima dell'inneo, il più grande e sistematico prima di lui di animali e di piante e per certi versi più bravo dello stesso l'inneo, diciamo, con la capacità di compressione dei fenomeni. E Ray appunto attribuiva a Columna la dimensione del petalo e cita tre opere di Columna, che andiamo un attimino velocemente a sfogliare. Il Fito Vasanos, 1592, l'edizione originale poco leggibile, pigliamo una ristampa dei metà settecento, con una biografia dell'autore, e dice, si fa riferimento a discogliere, e dice che il petalo è appunto floris folim, la fogliolina del fiore. Quindi c'è un problema, c'è un problema che si ripete poi tante volte nel cercare di assegnare la priorità. Chi è stato il primo? Ma se Columna si rifare a discogliere, allora è stato discogliere il primo, però discogliere si potrebbe dire usare il termine biobotanico pigliando dalla lingua comune greca dei suoi tempi. E l'introduzione volontaria determinata nella botanica moderna, è comunque in Columna. Questa è ribadita in altre opere, in questa che è l'insieme delle annotazioni aggiunte, realizzate da Columna per il famoso Thesaurus Mexicanus, per le grandi opere dei Lincei. Troviamo anche un'altra opera, si chiama Ecfrasis, 1616, ancora dei dettagli dove dice Petalum floys folium, sotto il nome di Petalum si intenda la foliulina del fiore. E qui c'è una cosa curiosa. Allora, ne parla, non in una sorta di parte generale, ma nel descrivere una specifica pianta che chiama Sancus montanus purpurius tetrapetalon, con quattro petali. Sancus mi sono detto, leggendo, Sancus, mai sentito questo nome, ma mi ricorda Soncus. In effetti vai a vedere la figura nella stessa opera e il mio mignolo, nella scalia, dice Soncus montanus. Quindi è un errore di stampa in Sancus. Ma questo è banale. La cosa carina è che questa pianta è facilmente riconoscibile. Vedete quanto la foto a colori ricorda molto da vicino il fiore raffigurato nella tavola di colonna. Questi sono i quattro puntini, puntini. Che pianta è? Beh, l'ho chiamata qui Prenantes purpurea. Il nome è stato già dato da Linneo 1753 a questa pianta, Prenantes purpurea. In realtà lui la chiama, lui la descrive come Prenantes flosculis quinis, quinis, quindi cinque, a gruppi di cinque. Ricorda nella sinonimia la descrizione di colonna, quella cerchiata, Soncus e non Sancus, tetra petalos, però dice ne ha cinque di petri. Allora, quanti ne ha quattro o cinque? Confrontate due figure, la specie è variabile. Poverde quattro o cinque. La cosa più importante non è questa banale sulla variabilità. E infatti in questi non sono affatto dei petali. E questa pianta è una tuga, è una composita, e se scogli quelle entità che si sfogliano come petali, sono in realtà di cinque. La collo addirittura l'intero singolo fiore. Sono quattro fiorellini. E l'intero l'aveva capito bene, li chiama flosculis. Lo dice petalis. Quindi, un termine che è nato per indicare qualcosa, portando come esempio qualcosa che noi non attribuiamo più a quella categoria. Succede in natura. Noi parliamo di mutazioni in genetica, ciò che The Freeze all'inizio dell'Ottocento, nel Novecento, chiamano mutazioni, è un fenomeno che in quel specifico caso oggi consideriamo non essere stata una mutazione. succede. Ma ricordiamoci di questo, quando cerchiamo origini, priorità, mettiamo etichette di paternità. Ho parlato di compositi, compositi appunto come le margherite, come i girassoli, con queste grandi fiorescenze dove tanti fiorellini, quelli esterni, per esempio, con la forma di linguetta, quelli centrali a forma di botticella con la corolla ridotta, quasi assente, sono tutti impiantati su un disco che si chiama ricettacolo. ricettacolo è un'altra parola che riguarda la botanica italiana a rispetto di quanto dicesse l'Inneo che dice è stato Vajantus che serve Sebastian Vajan, botanico del primo settecento, a chiamare di stime Cadice della ricettacola e compagnia. E Pontedera, italiano, segue praticamente segue l'esempio di Vajant nel studio del composite. Ma non è vero nulla, niente. Le opere in cui Vajant avrebbe potuto introdurre la ricettacola sono o da sopra il generale sui fiori, oppure una serie di articoli, qui ne vedete in fronte a spizio di uno, in cui è tratta specificamente di queste piante a fleur composé, composite appunto, e mai Vajant usa questo tema di ricettacolo. Lo usa Pontedera, Pontedera professora Padova, in questa opera notevole, in realtà Pontedera, l'orto di Padova è d'Antico, 1545. Ma Pontedera è il primo fra i prefetti dell'orto a essere un vero botanico di professione. Questo li verrà riconosciuto anche assegnando, appunto, creando per lui questa cattedra, per la prima volta a Padova. E dice, parla di questa parte, del fiore, dell'infiorescenza, meglio, e dice, Hegpars, Receptaclum S, mi vi detto. Qui la descrive in Italia. Aveva un gusto a Pontedera per definire o per ridefinire. Addirittura, criticando la definizione di un grosso botanico, ancora francese, di qualche tempo prima, dice, ma qual è la natura delle fiori? Non quella che ha dato a Tunefort. E si mette a darne l'incorsivo, vedete, Floss, Est, eccetera. Quindi, esplicitamente, intenzionalmente, una definizione formale. Questo è un contributo serio, esplicito, all'annomenclatura botanica. E anche Petra lo riprende, ovviamente in tempo abbiamo visto, c'era già, era di colonna, forse, e lo ridefinisce a evitare confusione. Perché dice, se tanta gente viene qua a visitare il nostro orto, uno la mette in un modo o in un'altra, c'è incertezza. E dice, c'è bisogno di usare una definizione pulita, chiara. Bene, questo è sulla nomenclatura. Passiamo alla sistematica. Il neo è più noto appunto come sistematico, ma ovviamente non è il primo. E anche, e soprattutto nel settore che lui coltiva di più quello delle piante, riconosce giustamente i suoi predecessori, nei suoi elenchi, nella sua classificazione degli studiosi, cita anche autori italiani di alcuni ricerchiati. la cosa divertente è che nel frammento centrale parla di Cesalpinus, professor Patavinius, ma Cesalpinus era un toscano, nato a Derezzo, pubblicava a Firenze, e lui, Potedera ovviamente Patavinius. Ecco qui alcune di queste opere, abbiamo già citato, ho già citato l'antrologia di Potedera e altre che ne vedete, sempre citate dall'Imneo, Micheli e Fiorentino che fu un ottimo studioso di Graminacee, ma anche di Funghi. E arriviamo dunque all'Imneo, all'Imneo come snodo, punto, un l'Imneo che non solo conosce i meriti degli italiani, ma li riconosce dedicando loro, cioè dando il nome preso da, dal nome di studiosi italiani a molti geni e un po' di specie di piante. Ben 35 studiosi italiani hanno il loro nome fissato forever nei nomi di altre tante piante. In alcuni casi sono nomi che erano già stati proposti da qualcuno prima di Ilmneo e che gli accetta ben volentieri, Alpini, Cortusa, Valdisneria dedicati ad Alpini, Cortusa, Valdisneria ma proposti da altri botanici e altri come Pontederia appunto dedicato all'autore che ho appena nominato su iniziativa e specie di Ilmneo. La parte successiva del discorso è ma se Ilmneo è stato così importante gli italiani cosa hanno fatto? Qual è stato il successo o l'insuccesso? Qual è stata la sorte di Ilmneo nel nostro paese? Il tema è stato oggetto di una serie di raccolta di studi molto interessanti pochi anni fa da Marco Beretta e Alessandro Tosi e gli esempi che adesso velocemente vedremo sono di studiosi che hanno avuto atteggiamenti diversi e chi ha rifiutato il metodo lineano chi l'ha accettato subito chi dapprima non se ne è reso conto dell'interesse l'ha ignorato e dopo di una opera successiva l'ha accettato. Rifiuto ricordo che la nomenclatura di Linneo entra nelle piante nel 1953 quegli animali nel 1958 un'occhio di binomia Homo sapiens e rosa canina ma Linneo l'ha cominciato a pubblicare molto prima la prima edizione del sistema natura che dà già un'idea che esisteva compreso con i minerali è nel 1935 opere grosse di botanica sono del 1937 quindi nel 1951 Saverio Manetti Toscano conosce già parecchie opere di Linneo ma dice no per carità non seguiamo le proposte di Linneo altrimenti dice totta res botanica fermo e turbato no getteremo nella confusione tutta la botanica diversa e più incerta è la posizione dei tributori come per esempio Giovanni Antonio Scopoli che pubblica una flora carniolica nel 1960 già conosceva le opere di Linneo con nomenclatura binomia ma mentre le usa per identificare le sue piante non usa la nomenclatura binomia per esempio questa pianta questa verbena e la identifica in base vedete nel riquadro a specie splantaru pagina 20 ma ricopia la descrizione non ricopia il nome quello che Lino chiamava il nome triviale il nome che entra poi fa il binomio cosa che farà lo stesso Scopoli in un'edizione successiva 12 anni dopo 60 72 in cui chiama la pianta senza altro in alto verbenoficinalis il che corrisponde appunto alla denominazione che aveva dato già l'Ineone 53 storia simile con Carlo Aglioni forse il più grande botanico italiano dell'epoca noto per una poderosa e splendidamente illustrata flora piedemontana piedemontana vediamo che nel 57 in uno saggio sulle piante di inizio e di intorni e anche lui identifica sulla base delle spese plantarum di Linneo ma non usa la cratura binomica ricopia la descrizione e mentre in Linneo le spese plantarum c'era cerchiato lì il nomignolo specifico introdotto più tardi in opera successiva userà la nominatura binomica sia caso in alto per le piante già descritte da Linneo sia in basso a sinistra per quelle nove n nobis quelle descritte da lui come nuove alla maniera di Linneo introdotta con binomio turritis stritta subito il metodo lineano era adottato da Vandelli per esempio tra gli altri che è anche la composizione della pagina di tipo lineano il nome leggeri maiuscolo è accanto fuori il nome specifico da associare ma tu sei piante tu sei zoolo raccontaci qualcosa degli animali e lo faccio molto volentieri aprendo un paio di pagine di questa opera eccezionale 1792 pubblicata dalla parte di Giuseppe Olivi una zoologia adriatica che non è soltanto descrizione e numerazione e descrizione di specie anche nuove per la scienza ma è piena anche di commenti di riflessioni di studi che aprono su diversi settori delle scienze della natura compresa la biometria ma questo ci porterebbe lontano egli usa il metodo lineano l'omenclatura ma soprattutto rilascia una dichiarazione sulla sistemazione metodica è il primo motore che ho trovato in questa storia a sentire il dovere di giustificare sia la necessità di un metodo sia di spiegare la scelta che opera nell'adottare quello di inepito studiare allora dice occorre per parlare della natura una sistemazione metodica e una nomenclatura se non vogliamo finire in un inestrecabile laberinto e avanti poi la fine dice che sistema potevo scegliere il più giusto il più concilio il più espressivo di tutti i linguaggi e sistemi con il celebre cavalliere di Nevo dichiarazione di adesione o di una scuola di una chiarezza di una onestà esemplare veniamo all'ultimo capitolo di questa breve storia allora i nomi adesso chiediamo agli animali le piante sì partiamo tutti dall'inneo però capite un esempio non è detto che venga seguito in maniera uniforme o genia è facile che se non ci sono delle se non ci sono un po' di disciplina la la l'uso prenda state differenti e nascono conflitti nascono problemi il problema viene in realtà alla ribalta molto chiara molto esplicita intorno al 1840 ne abbiamo un'espressione innanzitutto qui in Italia in una serie di azioni che hanno come responsabile questo signore che si chiama Carlo Luciano Bonaparte figlio di un fratello di Napoleone Carlo Luciano Bonaparte fu anche un uomo politico soprattutto qui a Roma quando ci furono la la gli eventi del 48-49 fu da parte diciamo dei rivoluzionari e pur essendo diciamo di famiglia imperiale ma fu un grande studioso soprattutto di vertebrati notate il titolo di quest'opera Iconografia della fauna italica quindi comincia a pubblicare nel 42 se ricordo bene Italia politica non c'era ma è una dichiarazione ideologica bene in quegli stessi anni il buon buonaparte aveva dato avvio a quella serie di rioni di scienziati degli anni che è stata ricordata già poco fa siamo nel 42 quarta edizione in Padova 27 di settembre in questa donata in questa riunione il buonaparte chiede che sia riunita la sezione di botanica e ideologia presiede botanico Moretti di Pavia e il buonaparte dice ho avuto dai colleghi inglesi un documento scritto da redatto a nome di una commissione da parte di signor Strickland che è la bozza di una oggi diremmo di un codice di rinomentratura la sezione di norme permette disciplina ai nomi degli animali la commissione mica da poco ne facevano parte un'ancorgione Charles Darwin e un già affermato e autorevole Richard Owen l'uomo che ha dato il nome al dinosaurio per esempio bene e il buonaparte spiega queste regole mette in discussione alcuni punti ma soprattutto dice siamo nel momento in cui la divergenza fra l'uniclatura zoologica e quella botanica stanno facendo gravi nel redigere un'edizione italiana di queste norme discutere e fornire poi anche alla comunità internazionale suggerimenti italiani cerchiamo anche di dare addirittura una delle proposte concordate fra zoologi e botanici chiede che venga nominata una commissione vengono letti i rappresentanti fra i zoologi e i botanici conclusioni? oimè nessuna e da allora le nomenclature di mali delle piante hanno continuato ad andare avanti se secondo per il proprio conto ci sono stati un paio di tentativi di ritornare indietro cioè di riannodare queste strade l'ultimo verso la fine del secolo scorso su iniziativa essenzialmente di alcuni botanici in particolare del studio di funghi David Oxford si è arrivate a scrivere un documento una bozza di biocode che avrebbe dovuto superare delle intenzioni la separazione fra animali e piante ma in realtà si è fatto di più allora finito tutto di beh e no ciascuna degli due campi piante e animali è andata avanti per la sua strada e in entrambi i casi l'Italia ha dato qualche contributo campo vegetale fino a un certo punto anche se in un recente articolo storia della democratura botanica si fanno nomi di personaggi anche noti anche importanti attivi ma il contributo ripeto è stato abbastanza limitato a parte delle proposte fornite da questo Giuseppe De Toni nel 40 che sono entrate tutto sommato in maniera abbastanza chiara anche nel codice definitivo che è oggi in uso maggiore la presenza dell'Italia nell'ambito zoologico nel 1895 viene istituita la commissione internazionale per la creatura zoologica che opera ancora che ha visto quasi sempre la presenza di un italiano nella sua composizione e la cosa che mi piace ricordare siamo quasi in chiusura ormai è che la versione attualmente in vigore del codice la sua bella copertina verde è stata ridata in cui avendo io pro tempo la presidenza della commissione mi sono dovuto occupare di far riunire fisicamente anche un po' di colleghi e siamo trovati in una sede italiana questo è il chiostro di un complesso che ospita il museo civico di Vicenza è stato di conclave che è un codice richiamato Vicenza Code una presenza un momento italiano nella storia della nomenclatura zoologica la storia finisce qui qualche avanti è la cronaca però una cronaca sempre attiva molto attiva dei botanici e degli zoologici italiani che in collaborazione con i colleghi di altri paesi europei vanno avanti a creare mantenere migliorare inventari accurati della flora rispettivamente della fauna dell'Europa dell'area euro-mediterranea questo è l'esempio delle piante e quelle che vedete sono quelle piante con le alberi dell'ortocotanico di Palermo sede storica di questo gruppo di lavoro centro e questo è l'esempio della zoologia che ha visto la checklist della fauna italiana redatta da noi diciamo nel nostro paese diventare il prototipo per un progetto di una fauna europea che adesso è largamente sviluppata e la parola mi sembra più importante con cui chiudo questo risposto è un continuo sperando che da parte nostra e da parte di colleghi di altri paesi ci sia ancora una continuazione un profezionamento di queste attività di questi risultati di questi risultati